Salvo Salerno, il responsabile di un progetto di Natura per servizi a quattro scelte a favore, quattro e cinque espressioni, quattro consigli che si vedranno la volontà e si vedranno il vostro corrispondale dalla famiglia di Pura Gara. Fabio, stai là tranquillo, bene, casa è lunga, bene Fabio, stai là tranquillo, casa è lunga. Dai Ugo, bene, dai. Siamo arrivati in 10, libe donne, nel senso di donne davanti a qui. Grazie a tutti. Marco, vai tu! Dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, Luca! Dai, Papi! Dai! Dai, Papi! Fabio, bene così, dai, Luca! Stai, dai, in gruppo, bravissimo! Come Fabio? Dai! 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 Su! Dai, Luca, dai! Dai, Luca, dai! Bravi! Dai, sei la prima cosa che sto dannando. Penso che amo, Dai dieci, dai bravo Bravi Bravi, dai bravissimi Bravi Bravi, dai forza, bravi Dai bravissimi Dai Marco Dai bravi Bravi, dai forza Bravi 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 Dai brava, bravissima, brava, dai. Ma è che si è ripreso tanto? Dai Simo! Simone brava, ottimo! Dai che non si occupa gli altri, vai Simo! Bravi dai, dai bravo, dai, bravo, dai forza, bravo, dai bravissimo, dai, bravo, dai forza. Fabio, qua, perfetto, ti si trova benissimo, sono tutti professori, bravo, dai. Siamo gli stessi con i quali siamo da posto, ha fatto questa situazione che c'è un perfetto per cui c'è meglio. Dai Fabio, dai, bene, zappa lei, bene, dai. C'è una protezione che fa questa parte, quindi adesso c'è Cigana, Mondina, sono nelle posizioni davanti a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 uno uno Alla prossima 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 Marco Marco Alla prossima 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 Alla prossima